Desolazione del povero poeta sentimentale di Sergio Corazzini. Diciamo due cose anzitutto su questo poeta. Abbiamo parlato la volta scorsa del crepuscolarismo. Ecco, il crepuscolarismo è un'avanguardia di inizio novecento, ok? Quindi non è da confondere con correnti letterarie invece dell'ottocento, ok? Ecco, Corazzini, dicevamo, è il più significativo fra i poeti crepuscolari di Roma, romano, del 1886, pubblica poesia giovanissimo. Muore addirittura a 19 anni, muore giovanissimo, di tubercolosi. Il tema della malattia e della morte è molto presente nella sua poesia. Egli lo esibisce voluttuosamente, cioè, dice il nostro collega, il professor Carlo Zacco, quasi con piacere, no? Però, diciamo, meglio io utilizzerei un altro avverbio. Ostinatamente. Ecco, senz'altro, in maniera ossessiva è presente questa tematica. La vedremo anche in questa poesia, che assume quasi il ruolo di un manifesto, se vogliamo, della poesia crepuscolare, in forte polemica con D'Annunzio. Quindi, senz'altro, anti-D'Annunziano, il poeta crepuscolare in generale, Corazzini, in modo particolare. Se D'Annunzio intendeva il connubio arte-vita, Ecco, infatti, è proprio D'Annunzio il principale esponente, soprattutto in Italia, dell'estetismo, che concepisce la vita come un'opera d'arte. Con quello della poesia sublime e della vita inimitabile del superuomo, per Corazzini, invece, la vita vera è quella del poeta malato. La poesia non aspira affatto al sublime, all'incanto dei versi musicali, delle immagini suggestive, ma aspira all'autenticità. Ecco, ad esempio, la sua esperienza di vita, di giovane, giovanissimo, già malato di tubercolosi, e quindi con una prospettiva di vita assai breve. Ecco, questo è ciò che lui vuole esprimere nella sua poesia. Non, diciamo, questo velleitarismo d'Annunziano, questi grandi sentimenti, grandi esperienze, eccetera. Anche Corazzini riprende la figura del fanciullo. In questa poesia lo vedremo, ma non come fa Pascoli, come possibilità di andare oltre il reale, ma sì come aspetto di una condizione reale della vita, priva di futuro, che cerca consolazione nella regressione. Come dice il vostro libro, il fanciullino di Pascoli è depotenziato. Quindi abbiamo visto come, in un certo senso, il fanciullino di Pascoli avesse una grande possibilità, appunto una grande potenzialità, fatta di stupori, di curiosità, eccetera. Invece il fanciullo di Corazzini è staccato dalla natura, chiuso in se stesso, rassegnato, caratterizzato da una persistente malinconia. Il fanciullino di Pascoli, infatti, ha il privilegio di uno sguardo autentico e originale, surreale. Quello di Corazzini, invece, è la voce del non poeta, che manifesta la perdita di autorità del poeta. che smonta la sua immagine e il suo ruolo sociale. La poesia non ha più nessun ruolo sociale per lui. Ecco, dicevamo, infatti, questa poesia è anche una dichiarazione di poetica, da questo punto di vista. Un'idea di poesia fortemente opposta, insomma, a quella di D'Annunzio. L'atteggiamento principale è la malinconia, il pianto, il ripiegamento su se stessi. Il tono è umile e dimesso. La poesia è considerata inutile. Non rivela nulla di nuovo. È il discorso che facevamo quando stavamo introducendo, insomma, questa poesia del Novecento. E abbiamo detto che si distrugge la figura del poeta Vate, quindi del poeta che si fa portavoce di grandi ideali, no? Profeta, quasi profetico. Al contrario, invece, il poeta, così come lo presenta qui, Corazzini, è tutto caratterizzato dal silenzio, dalla tristezza, dalla incapacità, impossibilità, ad esempio, di combattere contro la morte, l'isolamento, il dolore. Questi sono caratteristici della poesia come ce la presenta Corazzini. La poesia è considerata inutile. Non rivela nulla di nuovo. Inoltre, nega il passato, la tradizione, verso la quale nutre un sentimento di disincanto. Altre informazioni su Corazzini le potete trovare all'inizio di pagina L10. Lui era nato da famiglia agiata, però perderà presto tutto il suo patrimonio costringendo, quindi giovane Sergio, a lasciare gli studi e impiegarsi in un'agenzia di assicurazioni. Poeta precocissimo, pubblica tre raccolte di poesie, ma muore di tubercolosi all'età di 21 anni, insomma, muore molto giovane, adesso non so dire, una ventina d'anni. Ecco, insieme a Gozzano fa parte del gruppo dei crepuscolari, sa di avere breve vita davanti a sé, canta dunque il presente senza una nota di speranza, senza sorriso, ma neppure tragedia, insomma. Questa è una poetica opposta a quella d'Annunziana altisonante, è la poetica delle piccole cose e del senso di smarrimento di fronte alla difficoltà del vivere. Ecco, passiamo adesso quindi a introdurre la poesia d'esolazione del povero poeta sentimentale che si trova in una raccolta che significativamente si intitola Piccolo libro inutile. Ecco, Piccolo libro inutile pubblica lui poesie scritte con l'apis vengono pubblicate da un altro poeta crepuscolare che è Marino Moretti, i colloqui di Gozzano, sono tutte poesie che già nel, raccolte poetiche che già nel loro titolo ci dimostrano la concezione di poesia molto dimessa, insomma, e anche l'inutilità, insomma, della poesia che è in forte contrasto con i grandi valori, insomma, che c'erano, che poteva trasmettere il poeta secondo i poeti di generazioni precedenti. Il verso è libero, addirittura ci sono in questa poesia dei versi fatti solamente di due sillabe, così come ci sono in questa poesia come Amen, che è il verso finale, addirittura versi di 21 sillabe. I versi lunghi mettono in moto una modalità di discorso più prosastica. La poesia non vuole più cantare per mettere in campo una poesia languorosa e suadente, ma è piana, descrittiva, quotidiana, reale e prosastica. Il tono è basso, amusicale, prosastico, solo così il poeta ha un senso di autenticità. Negli ultimi versi si nota una sorta di sconsolata litania, quasi religiosa, dove il senso religioso non è ovviamente sentito, ma solo nominato, quasi a rafforzare l'ineluttabile destino della morte. C'è il senso di una malinconia senza riscatto. La poesia tende al punto più prossimo alla prosa, per dare vera espressione a ciò che lo agita realmente. Il tema della morte è presentata qui in un modo che rasenta il patetismo, pare un po' forzato, ma giustificato dal fatto che il poeta era davvero malato di TBC, diciamo, di tubercolosi. Ecco, approfondiremo comunque questo discorso del cammino ascetico e mistico verso la morte che è rappresentato in questa poesia. Perché tu mi dici poeta? Ecco, dobbiamo dire subito una cosa. La poesia si presenta a noi subito con un tono colloquiale, con una interrogativa che poi viene ripresa in ripetizione anaforica nel verso numero 5. Perché tu mi dici poeta? Io non sono un poeta, io non sono che un piccolo fanciullo che piange. Ecco, come vedete, c'è tutta una trama di ripetizioni perché Corazzini vuole insistere su questo aspetto. Allora lui non incarna il tipo di poeta appunto d'Annunziano, il grande mattatore della scena letteraria. No, assolutamente no. Rinuncia a questa immagine del poeta. Dice, non sono un poeta. Se poeta vuol dire quello che generalmente si intende, incarnato, dicevamo, in particolar modo da D'Annunzio in quegli anni, ebbene, io non lo sono. Io non sono che un piccolo fanciullo che piange. Abbiamo già detto che il termine fanciullo è particolarmente significativo perché riprende più o meno quello che in quegli anni aveva scritto Giovanni Pascoli nel suo testo più importante della poetica cioè è il fanciullino. Ma il fanciullo di Corazzini l'abbiamo già sottolineato è ben diverso rispetto al fanciullo panciullino pascoliano depotenziato privo di ogni tipo di entusiasmo. Un piccolo fanciullo che piange infatti dice semplicemente. Poi vedremo che ha solo voglia di morire dirà in un altro passo. Notate l'anafora io non sono io non sono. Vedi non ho che le lacrime da offrire al silenzio ho solamente da offrire le lacrime al silenzio. Il silenzio è una parola chiave tant'è vero che addirittura viene scritta con la maiuscola. Allora mentre i poeti generalmente tributano un vero proprio culto alla parola il dio di Corazzini è silenzio e può offrire a questo dio solamente le lacrime. Ricordatevi di questa cosa quando noi studieremo Ungaretti. Ungaretti sarà invece colui che cercherà di recuperare il valore della parola. Le avanguardie come questa dei crepuscolari cercano di fare tabula rasa e quindi in particolar modo concentrano i loro strali proprio sulla parola la parola che aveva assunto chissà quale valore nella poesia tradizionalmente parlando. Loro vogliono scardinare il valore della parola lo vedremo anche con i futuristi. Ebbene Ungaretti poi cercherà di recuperare questo valore il valore della parola. Notiamo anche la ripetizione dell'avverbio di negazione non io non sono un poeta io non sono che un piccolo fanciullo non ho che le lacrime da offrire silenzio ricorderemo questa cosa quando leggeremo invece le poesie di Montale ecco Montale riprenderà anche un po' questo questa grande presenza di avverbi di negazione non chiederci la parola Montale infatti sarà senz'altro influenzato dai poeti carpuscolari in particolar modo da Gozzano perché tu mi dici poeta le mie tristezze sono povere tristezze comuni le mie gioie furono semplici semplici così che se io dovessi confessarle a te arrossirei oggi io penso a morire le mie tristezze sono cose di poco conto di nessun conto così insignificanti che non meritano neppure di essere espresse a parole le mie gioie furono semplici furono furono ecco notate il cambiamento dal sono al furono si passa dal presente al passato insomma c'è già una idea probabilmente di un tempo che passa e che ormai relega insomma la fanciullezza a qualcosa di ormai lontanissimo non è rimasto nulla delle gioie le mie gioie furono semplici le mie tristezze sono quindi le tristezze sono al presente invece le gioie sono al passato remoto quindi sono qualcosa ormai di passato e che non può più ritornare la vita del poeta è stata comune fatta di gioie e di tristezze comuni la esistenza non contiene particolari ragioni per essere vissuta che se io dovessi confessarle a te arrossirei oggi io penso a morire infatti il motivo principale della lirica è questo della incombenza della morte della sua vicinanza su questo insiste tantissimo Corazzini io voglio morire riprende il discorso spesso ci sono delle riprese dalla fine del verso all'inizio del verso successivo semplici e semplici nei versi 7 e 8 morire e morire tra i versi 9 e 10 io voglio morire solamente perché sono stanco ecco la stanchezza una cifra esistenziale del crepuscolare in genere e di Sergio Corazzini in modo particolare solamente perché i grandi angeli sulle vetrate delle cattedrali mi fanno tramare d'amore e d'angoscia mi fanno tremare c'è un errore di stampa mi fanno tremare d'amore e d'angoscia compare per la prima volta in questa poesia un compare per la prima volta dei termini attinenti alla sfera mistico-religiosa i grandi angeli e ancora le vetrate delle cattedrali anzitutto i luoghi di culto che sono tradizionalmente i luoghi più adatti al raccoglimento e alla preghiera i grandi angeli possono essere angeli senz'altro dell'annunciazione ma anche dell'apocalisse ecco infatti mi fanno tremare d'amore e d'angoscia dice solamente perché io sono ormai rassegnato come uno specchio come un povero specchio malinconico ecco dicevamo la rassegnazione un altro sentimento che che pervade insomma Corazzini rassegnato perché sa di essere ammalato appunto all'epoca non c'erano cure adeguate alla sua malattia e quindi si sente distaccato dal mondo il desiderio di morte dato dalla stanchezza del poeta di fronte alla realtà di fronte a questo non può se non ritornare a riprendere nuovamente il termine fanciullo nel verso 18 ma con l'aggettivo triste che è significativo insomma perché gli dà la connotazione insomma che noi abbiamo sottolineato più e più volte lo specchio l'immagine dello specchio lo specchio non può far altro se non riflettere chi gli sta di fronte non può modificare l'immagine a suo piacimento così Corazzini sa che non può cambiare il suo destino ormai è segnato e quindi ecco perché dice sono come uno specchio ripete l'immagine dello specchio due volte quindi è una similitudine molto significativa anche gli aggettivi sono significativi specchio malinconico fanciullo triste o non maravigliarti della mia tristezza e non domandarmi io non saprei dirti che parole così vane Dio mio così vane che mi verrebbe di piangere come se fossi per morire ecco non non maravigliarti non non ritornano come vedete le negazioni 19 20 21 anafora di tre insomma di tre negazioni di tre avverbi di negazioni ripetuti all'inizio di questi versi non maravigliarti non maravigliarti della mia tristezza non domandarmi non farmi domande non domandarmi il motivo per cui sono triste io non saprei dirti che parole vane non saprei dirti che parole così vane Dio mio così vane così vane così vane è una ripetizione alla fine del verso possiamo chiamarla quindi epifora Dio mio così vane che mi verrebbe di piangere come se fosse per morire che mi verrebbe da piangere come se fossi sul punto di morire qui si ripetono i motivi delle strofe precedenti si aggiunge il senso di perplessità l'incapacità di fornire spiegazioni e risposte le risposte sarebbero vane sia per la loro inutilità sia per l'impossibilità di fornire una proposta costruttiva così vane così vane vedete come insiste molto su questo aspetto l'aspetto della vanità le ripetizioni abbiamo già visto come sono importanti le ripetizioni enfatiche danno un'enfasi emotiva al discorso le ritroviamo anche qua nei versi 21-22 così vane così vane non non eccetera le mie lagrime avrebbero l'aria di sgranare un rosario di tristezza davanti alla mia anima sette volte dolente ma io non sarei un poeta sarei semplicemente un dolce pensoso fanciullo cui avvenisse di pregare così come canta e come dorme ecco come vedete sulla slide abbiamo sottolineato i termini di carattere religioso attinenti alla sfera mistico-religiosa si fa largo questo linguaggio religioso attraverso il termine rosario una specie di metafora Corazzini versa una lacrima dietro dietro l'altra così come le litania del rosario che si succedono l'una dopo l'altra sono tanti i motivi per cui è triste Corazzini e lo dice però in questo modo la mia anima è sette volte dolente addolorata come quella della Madonna che l'iconografia religiosa rappresentava trafitta da sette spade ma io non sarei un poeta sarei semplicemente un dolce e pensoso fanciullo cui avvenisse di pregare è resa esplicita insomma la componente religiosa il mistero delle cose cioè il silenzio verrà svelato solo nell'aldilà anche se la vita stessa cioè i rumori hanno già portato il poeta a scoprire Dio e così comincia una sorta di percorso ascetico un ascesi che serve però a poeta semplicemente a prepararsi a morire io mi comunico del silenzio ritorna ecco lui aveva presentato il silenzio come il suo Dio a cui non aveva da offrire nient'altro se non lacrime adesso dice io mi comunico del silenzio quotidianamente come di Gesù e insomma come persone religiose partecipano all'eucaristia alla celebrazione eucaristica e fanno la comunione tutti i giorni cibandosi di Gesù lui invece si ciba del silenzio si nutre di silenzio che è l'unico alimento spirituale del poeta di Corazzini e i sacerdoti del silenzio sono i rumori poiché senza di essi io non avrei cercato e trovato il Dio sono i rumori che fanno innamorare Corazzini del silenzio il silenzio elevato a divinità l'abbiamo visto già dal verso 4 e paradossalmente sono proprio i rumori con il loro con il fastidio che viene che invece gli fanno desiderare proprio il silenzio per contrasto gli fanno desiderare la serenità del silenzio questa notte ho dormito con le mani in croce altra immagine questa delle mani incrociate sul petto che denota consacrazione a Dio infatti generalmente sono messe in croce le mani dei morti nella tomba e qui abbiamo insomma tutti gli elementi di cui abbiamo parlato già prima questa ascesi verso la morte di questo fanciullo triste che ha voglia di morire come aveva detto nel verso 18 mi sembrò di essere un piccolo e dolce fanciullo dimenticato da tutti gli uomini quindi dormire con le mani in croce è una prefigurazione della morte qui poi nei versi successivi sottolinea la sua solitudine dimenticato da tutti da tutti gli uomini da tutti gli umani povera tenera preda del primo venuto ecco come vedete qua ci sono altre immagini che ci sottolineano l'invocazione della morte la dolcezza contro la forza il rumore eccetera povera la debolezza povera tenera preda del primo venuto poi dice e desiderai di essere venduto di essere battuto di essere costretto a digiunare per potermi mettere a piangere tutto solo disperatamente triste in un angolo oscuro ecco qui abbiamo altre ripetizioni di essere di essere altre anafore dicevamo che in modo quasi ostinato lui ribadisce la sua disperata tristezza è chiaro che c'è un paragone implicito con il Gesù di cui si parlava prima chi è stato venduto battuto costretto a digiunare eccetera è appunto Cristo che quando si era ritirato nel deserto aveva pregato digiunato per 40 giorni ed era stato venduto da Giuda per 30 denari è chiaro quindi che c'è questo processo di assimilazione ma non c'è ovviamente in questa assimilazione del poeta a Cristo non c'è un senso religioso un sentimento religioso così profondo diciamo a lui interessa solo riprendere tutti i termini insomma della pietà e della dottrina cristiana per connotare in senso mistico il suo modo di vivere simile a moderno e laico e remita il modo di vivere di un giovane che sa di avere una spada di Damocle sulla sua testa la morte che incombe e deve semplicemente prepararsi a morire per potermi mettere a piangere tutto solo disperatamente solo e in un angolo oscuro come vedete insiste in maniera quasi ossessiva sulla sofferenza sul compianto e sulla disperazione e la solitudine io amo la vita semplice delle cose quante passioni vi di sfogliarsi ecco amo la vita semplice delle cose è invece una ripresa dicevamo della della poetica tipica della dei crepuscolari quante passioni vi di sfogliarsi a poco a poco per ogni cosa che se ne andava qui compare il motivo della caducità delle cose le cose si sfogliano letteralmente perdono le foglie quindi appassiscono si spengono l'ideale perseguito da Corazzini è quello dell'apatia del distacco dalle passioni che ci legano alla terra ecco questo è un altro aspetto molto importante il vero saggio è colui che è capace di distaccarsi dal mondo tuffarsi nella vita è uno sbaglio credere di poterla dominare è un inganno perché le passioni sono destinate a sfogliarsi a sfaldarsi a spegnersi a poco a poco per ogni cosa che se ne va ecco quindi l'angolo scuro lo sfogliarsi tutti questi elementi che si contrappongono fortemente dicevamo la poetica danunziana presentandoci quasi una mistica del dolore contrapposta alla mistica dell'ebrezza panica danunziana ma tu non mi comprendi e sorridi e pensi che io sia malato ecco dicevamo che è colloquiale questa poesia il poeta si rivolge ad un tu dice tu non mi comprendi e sorridi e pensi che io sia malato qui ricompare il motivo della malattia non vista come una mera dimensione autobiografica ma come una condizione esistenziale o io sono veramente malato e muoio un poco ogni giorno vedi come le cose non sono dunque un poeta ecco le cose dicevamo prima le cose muoiono anche anche se sono destinate a dissolversi e io sono come loro non sono un poeta io so che per essere detto poeta conviene vivere ben altra vita è chiaro il riferimento implicito qua insomma all'esistenza esemplare e così appariscente di Gabriele D'Annunzio qui invece abbiamo dicendo non sono un poeta io so che per essere detto poeta conviene vivere una vita ben diversa dalla mia io non so Dio mio che morire l'unica cosa che so fare è appunto quella di morire ecco come vedete la poesia si conclude con un amen amen il verso 55 il verso conclusivo della poesia bisillabico insomma infatti questa poesia assomiglia ad una preghiera e come tutte le preghiere si chiude in questo modo si chiude con un amen ritorna insomma qua la sfera mistico religiosa che pervade come abbiamo visto gran parte della poesia e che come abbiamo visto addirittura in alcuni momenti portava ad un'identificazione in qualche modo con Gesù per quanto riguarda le tribolazioni perché come dice così chiude la sua poesia Sergio Corazzini vivere significa morire ogni giorno sia per le cose sia per il poeta si chiude quindi questa poesia ribadendo il concetto della malattia e così la morte incombe sulla vita dell'uomo e perché l'epilogo la fine della vita è sentita come qualcosa di estremamente vicino